Il suo appello a Corato affinché il Taranto riesca a giocare la prossima partita casalinga con Messina in casa qui allo Iacovone. L'appello di Capugano è che in questo momento noi siamo defraudati e scippati di un qualcosa che era nostro allo Iacovone. Penso che noi non abbiamo nessuna colpa come squadra, come società e il popolo tarantino è soltanto vittima di questa situazione. Sono cose che non dovrebbero accadere, purtroppo sono accadute, io non entro nell'intrinseco delle responsabilità perché non ho conoscenza delle dinamiche, però voglio dire soltanto al sindaco, a tutti coloro i quali hanno a cuore questa situazione che noi col Messina dobbiamo giocare in casa. Lo si deve non tanto a noi ma alla città di Taranto, a quei 10.000, 11.000 che vogliono continuare a gioire per i propri colori. Quindi sono convinto che chi di dovere sta facendo il massimo affinché la partita venga giocata perché non far giocare questa gara sarebbe qualcosa di molto brutto, ma non ci voglio nemmeno pensare.